dai con lo sparo la fassa in furio arriverò davanti a te come il numero delle nostre carte con tensione l'aspettiamo no devo avvicinarmi dove cazzo sta e vedi zi che se non ti becco porca putzana dai le ruote si devono scaldare eccoci dai e dai le becco oh bello rattivo eh dai le becco guardalo subito pivello gas puntato qua ce lo fattiamo eccolo già dietro dietro che mi tappina si sta subito in modo salita guerra madonna cazzo di squalo sono sono le squalo vedete finisco sta cazzo di gol ma sarah ha visto tutti i video oggi per come fare la gara perfetta è sicuro valuto valuto dai ma se io puçu il 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 le mani che non me le sento più mi ingrazione anch'io